E' stato ritrovato morto l'escursionista che risultava disperso sul versante aquilano della Maiella. Si tratta di Fabio Cicone, carabiniere di 51 anni e residente a Sulmona. L'allarme era stato lanciato domenica sera dal fratello della vittima. In mattinata erano scattate le ricerche da parte del soccorso alpino e speleologico abruzzese, anche tramite l'ausilio dell'elicottero. Ricerche proseguite per tutto il giorno. Poi il pomeriggio la scoperta. Il corpo senza vita del militare è stato avvistato in fondo a un canalone nel territorio del comune di Pacentro. Inizialmente si pensava che dispersi fossero due, ma l'amico con cui di solito Cicone andava in montagna, questa volta era rimasto a casa. Questo fine settimana sono stati quattro gli escursionisti morti sulle montagne abruzzesi.